L'aria compressa priva di olio è fondamentale in molti processi produttivi per evitare la contaminazione dei prodotti. Industrie come quella alimentare, delle bevande, farmaceutica, elettronica, sanitaria e chimica si affidano all'aria priva di olio per svolgere il proprio lavoro. Anzi, il successo dipende proprio da questo. Ecco perché Ingersoll Rand offre i compressori d'aria rotativi a vite a iniezione d'acqua della serie E. Investendo nei nostri compressori della serie E da 15 a 37 kW, potrete soddisfare i più severi standard di classe 0 per l'aria priva di olio e silicone. Il design del compressore 100% oil-less utilizza l'acqua per la tenuta, il raffreddamento e la lubrificazione del processo di compressione, non richiede materiale di consumo ed elimina anche la minima possibilità di contaminazione. Senza bisogno di lubrificanti aumenterete anche i tempi di attività e l'efficienza con un minor numero di sostituzioni. Il compressore monostadio a trasmissione diretta contribuisce ulteriormente all'eccezionale efficienza della serie E. È disponibile un'unità opzionale a velocità variabile per ridurre ulteriormente i costi energetici. La serie E include un elemento di compressione a basse vibrazioni, un design meccanico semplificato con bassi carichi sui cuscinetti e un sistema di purificazione dell'acqua completamente integrato per garantire una vita di funzionamento senza problemi. Grazie all'ingombro ridotto e a un involucro fonoassorbente che riduce al minimo la ruborosità, i compressori della serie E possono essere utilizzati praticamente in qualsiasi ambiente, comprese le aria ad alta frequentazione. La fornitura alla vostra struttura di aria affidabile e al 100% priva di olio va ben oltre il compressore della serie E. Riduciamo il costo totale di proprietà attraverso un approccio sistemico, dalla progettazione allo smantellamento. Ogni compressore è dotato del nostro sistema Helix Connected Platform che vi consentirà di ottenere la massima produttività grazie al monitoraggio continuo della macchina. E per una maggiore tranquillità, il nostro programma di manutenzione Package Care si assume il rischio operativo fino a 10 anni. Contattate i nostri esperti oggi stesso per saperne di più sui nostri compressori e servizi della serie E.